Una nuova bravata, sempre nella Venezia, l'ende con tre minorenne, un sedicenne e due quattordicenni che come atto di crescita devono dimostrare l'uno all'altro di portare a termine un furto. Già, ma cosa rubare? Proprio il gommone che si trova a portata di sguardo e di mano all'isola della Certosa. Il furto, mercoledì scorso, dopo le 18, i tre minorenni acciuffati dalla polizia verso Sant'Elena nei pressi dello stadio, sono stati denunciati e riaccompagnati dagli agenti e i rispettivi genitori. Con la polizia ancora a caccia del quarto amico, il più scaltro, è riuscito a darsela a gambe elevate alla vista dell'arrivo degli agenti. Il gommone, naturalmente, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.